Allora ciao ragazzi benvenuti, prima ho fatto un video nel quale vi presentavo la macchinina che ho affittato a Milano E... elettrica Elettrica, vabbè uguale E assomiglia in realtà ad una suppostona Dovete sapere che però il ragazzo al telefono mi ha detto guarda che puoi farci 120 km Cioè 120 km di autonomia se vai a 90, noi siamo andati a 60 Il problema è che siamo sotto il serbatoio e siamo a 40 km da Milano Aspetta faccio riprende che se no la gente non ci crede Se non ci credete? Zero Cos'è lo zero? È questo qua, è lo giù vedete no? E quindi niente siamo nella merda più totale E adesso dobbiamo andare a caricare a casa di una nostra amica la macchina Vediamo cosa accende, vediamo cosa accende L'ha accesa! Si è accesa? Non si capisce che è accesa, non fa nulla Non fa rumore, questa macchina va aria Ma te l'hanno dato il telecomandino? Ma è acceso, oddio si Ma anche la retro? Oh che cazzo, l'ansia È una luce Però senti quanto è carina, quanto è delicata Si, sembra che stai a guidar sua la panna considera La panna? Si, non si sente proprio l'attrito quel terreno È un tappeto volante No ma regà, Fast and Furious, Fast and Furious Mini 4 putty version No, Fast and Furious hanno 16 marci, noi ne abbiamo una Oddio, aspetta, mi è entrato un coso un culo Ti debbiate eh Vabbè niente, è finito È finito, devo chiudere Spegno? Il prossimo episodio è quando sei in mezzo alla tua strada Il ragazzo si spegne sta merda È finito, è finito È finito, è finito Luca è finito, è finito, è finito